ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi vi presento i prodotti di pinza for you ed ecco qua 5 kg di farina mix per pinza 5 kg di spolvero di riso una confezione da 1 kg di mix per pinza e di lievito il mix per pinza romana è un prodotto che è nato nel 2001 a roma nell'azienda di marco montuori e adesso è venduto e conosciuto in tutto il mondo grazie al suo successo e alla sua altissima qualità un perfetto bilanciamento nel mix di frumento soia e riso insieme alla pasta madre permette di realizzare impasti fuori dal comune la pinza sarà troccante fuori e morbida dentro oltre ad essere estremamente digeribile e criabile con questo pacco da 5 kg si possono fare 36 pinze da 250 grammi luna invece lo spolvero di riso termotrattato permetterà di lavorare al meglio tutti gli impasti molto idratati non sporca e aiuta a tenere pulito inoltre dona ulteriore troccantezza e gusto alla pasta anche il sacchetto di spolvero di riso è nel formato da 5 kg e si consiglia di acquistare un sacchetto per ogni 3 di pinza romana o teglia romana inoltre nel pacco all'azienda mi ha inserito una bustina di lievito e un pacco di farina pinza romana da 1 kg questo si tratta di un nuovo formato e si trova già in moltissimi supermercati italiani inoltre sul retro dei sacchetti di farina troviamo la ricetta di marco montuori per avvicinare la nostra pinza al meglio grazie a tutti i suoi consigli potete acquistare queste farine e tutti gli altri loro prodotti nel loro shop online pinza4u ringrazio ancora l'azienda per questi fantastici prodotti e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti